Musica Rieccoci per questo nostro nuovo appuntamento con il giornale in tv che non possiamo non aprire con la tragedia di Casamiccio, l'isola di Ischia, la frana e purtroppo le vittime che si sono registrate, infatti oggi sul quotidiano del sud leggiamo il muro di fango, sommerge l'isola di Ischia, quindi morti, dispersi, sono evacuate centinaia di persone, soccorsi difficili e tutto è partito da una frana, ovviamente i morti ci sono purtroppo, il numero ancora dei morti è provvisorio anche per quanto riguarda i dispersi, anche su Gazzetta del sud leggiamo tragedia Ischia, i morti salgono a 7 ma purtroppo sono numeri che probabilmente, speriamo di no, insomma, sono destinati a salire, anche un neonato e due fratellini tra le vittime della frana, stato di emergenza per un anno, l'ex premier Conte nel 2018 non ci fu nessun condono ma le polemiche infuriano, quindi una giornata a Ischia dominata dalla triste Conte, della triste Conte delle vittime provocate dalla colata di fango che ha travolto Casamicciola, quindi un bilancio pesante, addirittura sono stati ritrovati anche i corpi di un'intera famiglia, Maurizio Scotto di Minico, la moglie Giovanna e il figlio Giovanni Giuseppe di appena 22 giorni, due fratelli di 11 e 6 anni e di una donna bulgara di 58 anni, questi appunto si vanno ad aggiungere ad Eleonora Sirabella di 31 anni per un totale di 7 morti accertate, però insomma le ricerche proseguono ma col passare delle ore appunto diminuiscono le possibilità di trovare i dispersi, a meno 5 quelli che mancano all'appello, quindi 7 morti e 5 sono dispersi, però insomma col passare delle ore sarà difficile che queste persone siano trovate ancora in vita. Il Consiglio dei Ministri in seduta straordinaria ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di un anno e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro, quindi nessun condono, era solo una procedura di semplificazione, così dice l'ex premier Conte, intanto si difende dalle polemiche dopo essere stato additato dall'aver introdotto nel 2018 durante l'alloro governo Conte, governo gialloverde, una sanatoria per la ricostruzione del terremoto di Ischia, quindi ancora anche sul quotidiano come dicevamo il muro di fango sommerge l'isola di Ischia, veramente una tragedia, tutto dovuto a una frana, si indaga per disastro colposo, ovviamente la Procura ha aperto un'inchiesta, è stato dichiarato lo stato di emergenza, 2 milioni di euro stato stanziato dal governo per quanto accaduto a casa micciola di Ischia. Sempre sul quotidiano leggiamo la storia, la burocrazia sanitaria separa due sorelle da due anni in attesa di un referto dell'Asp, il dramma di una tutrice che non può riunirsi con la sorella di Sabile, ospite di una casa protetta, l'azienda sanitaria non ha ancora completato la procedura per il trasferimento da Crotone a Bologna. Questo era sul quotidiano del sud, è sempre sanità, i registi tumori, strumenti sconosciuti in Calabria, maltempo anche in Calabria, soprattutto nella Locride, vento e pioggia flaggellano la Locride. Comuni al voto, a Cutro è stato eletto l'unico candidato Ceraso perché le altre due liste sono state appunto escluse. Arresto in Turchia, l'attivista calabrese forse sarà espulsa. Il delitto di Nicotera Marina, un omicidio con i misteri, si cerca ancora il killer per il delitto di Giuseppe Muzzo Pappa, sempre Crotone, comune. Ora il rimpasto, Corigliano e Greco, pronti per l'aggiunta, Vibo Valenza, Ato Rifiuti, tappe date da rispettare per non perdere il PNRR. Reggio Calabria, Liceo Volta, il corso di intelligenza artificiale, iniziativa unica nel sud. A Catanzaro, sociale, nuovi giochi nel giardino di Ines della Casa Rifugio e poi Agricoltura, il piano milionario della regione per i vigneti. Poi Serra San Bruno, ospedale di Serra San Bruno, scontro con l'Asp sui posti letto. Questo era appunto quanto abbiamo letto sulle pagine del quotidiano del sud, sulla prima pagina del quotidiano del sud. Poi ci torneremo, ora andiamo alla prima di Gazzetta del sud. C'è anche la questione politica che riguarda il rimpasto nella giunta regionale. C'è appunto questo titolo oggi su Gazzetta del sud. Giunta, la Lega paralizza le trattative. Quindi pesano le divisioni interne del Carroccio, mentre Fratelli d'Italia tira dritto su Calabrese. Continua lo stucchevole balletto di nomi per la sostituzione della regione degli assessori Minasi e Orso Marso che sono stati eletti al Senato. Poi ancora dubbi sulle coperture. L'obbligo del post solo oltre i 60 euro. La prima volta in Cina, popolazione in piazza, esplode la rabbia per le restrizioni Covid. Pechino, adesso trembo. Ci sono restrizioni Covid ancora in Cina. Kiev sicura. Mosca verso una nuova ritirata. Il Cremlino in grave difficoltà sarebbe vicino a lasciare Zaporizia. Esodo di civili da Kasson per i continui bombardamenti dei russi alle linee elettriche. Andiamo anche alle pagine, alle notizie regionali, sulla prima pagina di Gazzetta. L'omicidio di Nicotero. Muzzo Pappa è stato attirato in una trappola. Il vuoto nei comuni sciolti. Cutro, eletto Ceraso a Santofemia. Serrato testa a testa a Santofemia da Spromonte. Poi Bagnara. Condizioni stabili per il ferito. Comunità sotto sciocco per l'esplosione che c'è stato con un morto. Il sindaco Pistolesi, grande dolore, venuto appunto il cognome della persona morta, era conosciuto da tanti. L'Ocride. Si quantificano i danni causati dal maltempo. Poi la studentessa arrestata in Turchia sarà rimpatriata. È una catanzarese di 25 anni, Dalila Procobbio. Questo era sulla prima pagina. di Gazzetta del Sud. Andiamo all'interno delle pagine di Gazzetta del Sud. Dicevamo che la catanzarese è arrestata in Turchia. La studentessa catanzarese, eccola qua, Dalila Procobbio, originale di Catanzaro Lido, sarà espulsa dalla Turchia e rimpatriata. La farnesina è in stretto contatto con la famiglia di Dalila Procobbio. Partecipava a un corteo non autorizzato per i diritti delle donne. Questo era appunto sul quotidiano Gazzetta del Sud, sempre nell'ambito del nostro appuntamento con i giornali in tv. È sempre su Gazzetta. Sanremo Giovani. C'è anche un calabrese. Il nome d'arte è Alfredo Bruno da Cosenza, classe 93. Sono stati designati i 12 concorrenti. C'è il cantautore Cosentino che è appunto Fiet XIII, il suo nome d'arte, parteciperà alla finale col brano Pupiller, Fiet XIII al secolo, per così dire, Alfredo Bruno da Cosenza. Dallo stretto a Proda Torino, una storia di rinascita e bellezza, il corto La via del ferro, diretto da Francesco Cannavà sull'avventura romana e artistica dello scultore Fabio Pilato. Al film festival in corso, appunto, c'è anche questo corto. Reggio Calabria, sempre su Gazzetta, Reggio Calabria, il sistema di mobilità sostenibile che fino a fatto da oltre un decennio si favoleggia su un progetto da 100 milioni di euro che avrebbe cambiato il volto della città di Reggio Calabria. Pare che la soluzione finale potrebbe essere solo due coppie di corse di treni. Statale 106, mancano i progetti di alcuni tratti della Locride. La rigenerazione del PD deve partire dal basso, ma lo vogliono tutti, la denuncia dell'avvocato Carmen Latella. Dicevamo appunto di bagnare l'esplosione che c'è stata, ancora sgomente, addolorata. Il sindaco diceva, una tragedia per tutti. Velardo intanto è in condizioni stabili al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Reggio Calabria, il maltempo trattiene la patrono nel Duomo di Reggio Calabria. Remissione del debito a ex detenuto, gli effetti della pandemia e della crisi economica sulle spese di giustizia. Doveva allo Stato, oltre 200 mila euro, istanza al Tribunale di Sorveglianza. Poi, ancora nella Soveratese, questa volta aggredisce i carabinieri ai domiciliari un 53enne, unica al pronta l'assunzione di nuovi docenti e ricercatori. Le uscite dei volontari di strada al fianco dei poveri senza nome, poi appalti a Rende, si torna davanti ai giudici del riesame. Sempre su Gazzetta, restano allo Stato i beni sequestrati agli uomini della cosca Grande Aracri di Cutro. La Cassazione rigetta i ricorsi dei fratelli Sarkone di Cutro. E ancora su Gazzetta, Sibari, potenziati i servizi ferroviari di collegamento. La fascia ionica ha usufruito di un maggior numero di treni capaci di raggiungere le principali stazioni regionali. Una ciclovia sorgerà nel Parco del Porlino, l'annuncio di Pappaterra a Castrovillari. Fondi per i torrenti a rischio in arrivo 2 milioni di euro per Corigliano Rossano. Poi ancora rispettare i diritti delle donne, iniziativa del Comune con le scuole di Cariati. Questo era appunto su quanto abbiamo letto sulle pagine calabresi di Gazzetta del Sud. Poi ovviamente torneremo con lo sport, quando appunto ci avvieremo verso la conclusione del nostro appuntamento. Torneremo alle pagine di Gazzetta del Sud con lo sport. Quindi dicevamo l'obbligo del post sale a 60 euro il limite per l'esenzione. Quindi fino a 60 euro si può pagare con il POS. Beh dicevamo, lo leggevamo anche in prima pagina, il registro tumori in Calabria regna l'autarchia assoluta. Lo dice il consigliere regionale Ferdinando Laghi. Il piano della regione solo a fine 2023 nel programma operativo Le Idee per riformare la rete oncologica in Calabria. Estetica oncologica, il gruppo di volontarie al Pugliese Ciaccio. Verso l'ammodernamento dei vigneti, l'assessore Gallo annuncia appunto 1,2 milioni per chi ammoderna, per le aziende vitivinicole che ammodernano i loro vigneti. La protezione regionale calabrese parte per Ischia per aiutare appunto le popolazioni colpite. Poi dicevamo appunto a Cutre è stato eletto l'unico candidato sindaco Ceraso. Poi come dicevamo anche che la burocrazia Ciro Marina separa ancora due sorelle. Reggio Mugiuli premi pace e clima a Reggio Calabria. Tra i riconoscimenti quella alla studiosa di lettera russa del dissenso von Zivetig. Il maltempo investe la Locride. Poi a Catanzari il barcone abbandonato sin abissa era stato utilizzato per uno sbarco di migranti. Poi ancora sul quotidiano del sud andiamo alle pagine di La Mezzia. Il piano strutturale comunale dimentica le zone degradate. Quindi il piano strutturale che passerà in consiglio è datato ed è legato a vecchie leggi. Nel documento urbanistico nessun riferimento all'area di Scordovillo tristemente nota per essere un'area degradata al centro della città dove sono residenti circa 400 persone di etnia rom. Quindi questo scrive oggi il quotidiano del sud, sempre il quotidiano del sud. Partito Democratico, Pileggio è il nuovo segretario del circolo del PD di Maida. Francesco Pileggio dice auspico che parta anche da noi un'opera di rinnovamento. Poi scuola gli studenti del liceo fiorentino di La Mezzia Terme a Catania con Erasmus Theater. Si tratta dello step finale del progetto Teatro in Lingua. Sempre sulle pagine del quotidiano del sud, La Mezzia, le false verità del sindaco Mascaro. L'ex sindaco Gianni Speranza tira fuori la sentenza della Corte dei Conti, sezioni riunite. Per l'ex primo cittadino il suo successore, appunto Paolo Mascaro, ha svenduto la cantina sociale. Quindi dopo otto anni di quasi silenzio stabiliamo la verità, dice il sindaco Gianni Speranza, che appunto con un video postato sulla sua pagina Facebook ha raccontato le sue verità circa le accuse di Paolo Mascaro di aver portato in dissesto il Comune. Tutto questo traendo spunto dall'appuntamento pronto sindaco con Giovanni De Grazia e Paolo Mascaro appunto sui canali di STV. Poi cronaca giudiziaria è stata dissequestrata una somma ottenuta dal decreto aiuti Covid a una impresa lamettina. è stata dissequestrata. Poi la denuncia, ambulanze 118 cercansi alla Mezzia, la denuncia del Comitato Malati Cronici. Al pronto soccorso c'è un torrente, fa un certo effetto sentire occhiuto parlare di grandi progetti, dice il Comitato Malati Cronici, quando appunto mancano le ambulanze del 118. sempre sulla Mezzia, tante iniziative nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, progetto Teca, un'occasione di ascolto, incontro assemblea al liceo artistico, poi un altro incontro, donne indranghetiste e combattenti, il magistrato Marisa Manzini ha parlato agli studenti lamettini. Nelle scuole dovrebbero inserire la materia storia delle organizzazioni criminali. Poi a Carlopoli, solidarietà e impegno, c'è stato uno scione Avis contro la violenza sulle donne. A Maida, l'esempio culturale delle donne iraniane, messaggio del Comune che è stato colorato a Virosso, il sindaco Amantea dice che è una giornata importante questa appunto contro la violenza sulle donne. Andiamo sempre sulle pagine del quotidiano del Sud, voce di vento contro la violenza, anche qui una o due giorni di reading con le scuole dedicata al tema. L'assessore comunale alla cultura Monteverdi è iniziato un percorso rosa, quindi anche su Catanzaro ci sono state appunto tante iniziative relative alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Andiamo sempre al quotidiano, questa volta andiamo a vedere notizie di altri territori. Corigliano è greco in giunta a Crotone, scrive, quindi c'è un rimpasto in giunta anche a Crotone. Poi Vibbo si punta all'impianto a Dinami, il commissario di Ardica l'illustra le tappe per arrivare al gestore unico, terminare il piano d'ambito e la gara entro giugno, pena la perdita di fondi. Poi dall'ASP soltanto prese in giro a proposito dei posti letto all'ospedale di Serra San Bruno, le critiche dell'ex consigliere regionale Luigi Tassone. In provincia di Pizzo ecco tutti i volti di un no all'Istituto Nautico di Pizzo con il sostituto procuratore Marisa Manzini, progetto di visione in lab per la giornata anche qui contro la violenza sulle donne. Quindi anche qui. Poi ancora in provincia di Vibbo, Tropea, l'ultima puntata di Celebrity Hunted che fa tappa in città, la popolare fiction reality che ha fatto tappa anche a Tropea. Questo era appunto per quanto riguardava le pagine del quotidiano del Sud. Dicevamo appunto, quando arriviamo verso l'appuntamento con il giornale in tv, arriviamo con le pagine dello sport, tanto sport, tante notizie. A proposito di sport vi ricordo l'appuntamento di questa sera come ogni lunedì sera alle 20.45 con a tutto calcio, approfondimenti, ospite, interviste, servizi, serie B, serie C ma anche serie D e eccellenza a tutto calcio. Quindi questa sera alle 20.45, ogni lunedì sera alle 20.45 ma anche in replica il martedì, ogni martedì alle 14.30 e il mercoledì alle 22.30. Parliamo di mondiali, illusione Canada, certezza Croazia, quindi Croazia batte Canada 4-1, il Belgio perde col Marocco 2-0, il Giappone perde con il Costa Rica 1-0, mentre Spagna e Germania, il match club appunto, è finito 1-1, quindi Fulcru tiene in vita la Germania che entra e segna il gol del pareggio, che salva i tedeschi che ora devono appunto aspettare un'altra partita per qualificarsi agli ottavi. Per la serie B, pareggio del Cosenza, un pari che vale oro, Cittadella-Cosenza finisce 1-1, Brignola-Cittadella salve Rosso-Blu che alla fine avrebbero potuto anche vincere. In serie B sempre non va oltre il pareggio, un amaro pareggio quello della Regina in casa col Benevento, 2-2 perché la Regina era in vantaggio per 2-0, Regina è rimontata dal Benevento, vinceva 2-0, tanta sfortuna, qualche dubbio sul secondo gol ospite, infatti il direttore sportivo Taib è furioso, inaccettabile il gol del 2-2. Cannavaro, se sei bravo, fai 4 gol e vinci, il resto sono solo alibi, dice Cannavaro, tecnico del Benevento. Il Crotone vince 1-0, andiamo in serie C contro il Latina 1-0 e ora torna al secondo posto con 37 punti, a 4 punti del Catanzaro. La vera grande vittoria di questa giornata è quella del Catanzaro che va a sbancare l'Adriatico di Pescara. Pescara 0, Catanzaro 3, Pescara che era secondo in classifica, ora Catanzaro 41, Crotone 37 e Pescara 35. Catanzaro una vittoria decisiva, prova di forza dei Gello Rossi che sbloccano, che sbancano anche il campo del Pescara. Sitummo e doppietta di Martinelli, questi mettono la firma sul big match e Fulignati para anche un calcio di rigore. In serie D, Marigliano Mariglianese la mezzatemme non si è giocata, è stata rinviata a 7 dicembre, la Ribbonese evita il KO con la San Cataldese in pieno recupero. Invece Tris del Locri, Locri-Canicatti 3 a 1, Colpo del Cittanova che vince a Paternò 3 a 1, Castrovillari che perde invece con Sant'Agat 3 a 1. Della serie D ne parleremo naturalmente ampiamente con tutti i servizi delle calabresi nel corso dell'appuntamento con a tutto calcio. Il Catania vince con un autogol 1 a 0 contro la Cereale. Quindi nonostante la mezza questa domenica non ha giocato per causa Covid nelle squadre della Mariglianese è rimasta comunque al secondo posto, forse è raggiunta da Locri e Vibbonese. Ma la mezza deve recuperare una partita e domenica al dipolto c'è il big match, domenica prossima 4 dicembre al dipolto tra appunto la mezza terme e Locri. Poi la mezza terme che giocherà giorno 7 contro la Mariglianese. In eccellenza il match tra Branca Leone e Promosport termina con un nulla di fatto, scrive appunto Il Quotidiano del Sud. Promosport che con questo pareggio ora vede ancora più lontana la vetta della classifica. Quindi Promosport 20 punti, la Gioiese invece prima in classifica 30, Gioiese che appunto ha vinto, quindi è a 10 punti di stacco. Volley Serie A2 femminile, Soverato, Vittoria, Batticuore, poi Basket Serie B maschile, Viola, Viola Reggio Calabria, La Rimonta, è solo sfiorata, questo è quanto scrive appunto nelle pagine dello sport Il Quotidiano del Sud. Andiamo alle pagine dello sport di Gazzetta. Reggina che rabbia, Catanzaro che forza. Questi appunto i titoli poi. L'arbitro e il VAR fermano la reggina, scrive Gazzetta del Sud. Taibbi puniti da decisioni inaccettabili. Poi c'è la foto in campo tra Inzaghi e Cannavalo, i due tecnici, campione del mondo con la nazionale di calcio nel 2006. Tra l'altro Inzaghi è stato già tecnico pure del Benevento. Il Cosenza apre una mini serie positiva, pareggia 1-1 con il Cittadella. Catanzaro, Stellare, scrive Gazzetta del Sud, annichilito il Pescara. La Vibonese in estremis agguanta la San Cataldese, il Locri non perde colpi e si gode il secondo posto. Crotone nel silenzio, un altro capolavoro. Terza vittoria consecutiva, ottenuta con una prova gagliata su un avversario ostico e in uno stadio senza pubblico perché appunto il Crotone ha giocato a porte chiuse. Poi dicevamo appunto del pareggio, in eccellenza del pareggio appunto della Promosport che non va oltre lo 0-0 a Branca Leone, per cui la Promosport ora ha 10... la vetta della classifica per la Promosport si fa lontana, ben 10 punti. Branca Leone e Promosport non si fanno male. I Lametini più intraprendenti nel primo tempo. Questo era appunto su quello che abbiamo letto sulle pagine dello sport di Gazzetta del Sud. Andiamo a vedere anche altri sport. Parliamo di basket, Viola non basta il rabbioso finale, Viola reggio Calabria che perde 90-95. Ovviamente parliamo di basket serie B. Tennis, Coppa Davis, il Canada centro uno storico primo trionfo. L'Italia si consola con una wheel card per la divisione del prossimo anno, quindi il Canada vince appunto la Coppa Davis in semifinale, ha battuto proprio l'Italia. Poi basket serie C Gold, il Renda al tappeto a Salerno, la Mezzia e Ischia è stata rinviata a mercoledì appunto per le tragedie che è successa a Ischia. Poi pallavolo e serie 2 femminile, Soverato, stavolta la spunta Martignacco, K.O. al tie break. Poi questo era appunto sulle pagine di Gazzetta. Poi andiamo alla pallavolo, serie B. La Raffaele e la Mezzia non fa sconti a Siracusa, battendo appunto per 3-7 a 0. Il Siracusa, la Raffaele e la Mezzia, che dopo lo stop con la capolista alle Toianni, si rialza e vince contro il Siracusa per 3-0, quindi torna alla vittoria la Raffaele e la Mezzia. Questa era appunto sulle pagine dello Sport di Gazzetta del Sud. Noi vogliamo concludere con una pagina che disporta ben poco, cioè quanto accaduto appunto in una partita di prima categoria. Virtus Rosarno-Real Pizzo, il match di calcio che si trasforma in rissa a Rosarno, la partita con il Real Pizzo, quindi partita sospesa, appunto quella tra Virtus Rosarno e Real Pizzo, la partita è stata sospesa e 3 calciatori addirittura sono finiti in ospedale. Una domenica da dimenticare, questo appunto il triste bilancio registrato a Rosarno per l'attesa partita che vedeva protagonisti giocatori rosarnesi contro il Real Pizzo. Quando la sfida era sullo 0-0, nella ripresa si è scatenata una improvvisa caccia all'uomo, tant'è che Beniamino Baratta, Andrea Michienzi, Gioachim Mottura, tre calciatori sono stati accompagnati in ospedale per essere medicati, hanno riportato contusioni varie, una commuzione cerebrale, uno dei tre giocatori ha anche un'infrazione oculare, una rissa scoppiata all'improvviso che ha visto coinvolti diversi giocatori, le immagini riprese anche da diversi telefonini sono inequivocabili, insomma queste immagini, calci, spintoni, pugni, sputi, qualcuno è anche intervenuto dagli spalti per entrare in campo, infatti alla rissa tra i giocatori si sono poi giunte alcune persone arrivate dalle tribune dopo una vera e propria invasione di campo. In un attimo alcuni individui sono entrati appunto sul terreno di gioco scagliandosi contro i giocatori in apitini, cioè contro il Real Pizzo, che hanno provato a difendersi. L'arbitro Sorrentino disoverato a quel punto non ha potuto fare ovviamente altro che sospendere la partita, si era giunti al quindicesimo della ripresa e ora ovviamente sarà il giudice sportivo a determinare le sanzioni in base al referto del direttore di gara. Inevitabile che scattino anche una serie di daspo per i faccino rosi, oltre a sanzioni elevate per la squadra di casa, appunto la Virtus Rosarno, la formazione ospite, verosimilmente invece il Real Pizzo appunto verosimilmente chiederà la vittoria a tavolino di questa partita, partita tra virgolette, chiamiamola così, ma è sicuramente una triste pagina di calcio, anzi una triste pagina di sport, oltre che di calcio, ma è una triste pagina in senso generale, non solo di sport e non solo di calcio. E con questa bruttissima notizia noi siamo arrivati alla conclusione del nostro consueto appuntamento con i giornali TV ogni giorno con voi, su STV, canali 94 e 98 del Digitale Terrestre, vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook STV, sul nostro canale YouTube ogni giorno con voi, ci rivedremo però con l'appuntamento di A Tutto Calcio, come sempre, ogni lunedì sera alle 20.45, in replica alle martedì alle 14.30 e il mercoledì alle 22.30. Da Pasqualino Rettura è proprio tutto, grazie per l'ascolto e l'attenzione, grazie per averci seguito fin qui con i giornali TV, ci rivedremo per le prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video,